Troia, la soluzione ad ogni vostra esigenza. Senti, alla luce dei risultati siete ancora riusciti a incrementare i numeri per quanto riguarda gli allievi, una stagione quindi tutto sommato una prima parte buona? Sì, sono molto fiducioso perché a parte il discorso piccoli, abbiamo un buon numero di scuola calcio, 2004, 2003, 2002, siamo riusciti anche a rinfoltire sia i 99 che i 98. Senti, oltre a questo tanti ragazzi che possono accedere alla prima squadra che oltretutto sta facendo un buon campionato con tanti prodotti del vostro vivare. Sì, anche lì siamo riusciti a mettere nel giro della prima squadra 2,95 e 1,94 che sono quasi sempre in pianta stabile. Obiettivo per il 2014? L'obiettivo del 2014? Spero di giocarmela alla fine con la prima squadra e con il settore giovanile e la scuola calcio di proseguire con qualche risultato magari migliore in confronto a quello di oggi saremo già a buon punto. Per quanto riguarda le feste natalizie avete in programma qualche torneo? Stiamo progettando se va bene un torneo in palestra solo per i piccoli amici e il 2005 che dovrebbe svolgersi il sabato 5, domenica 5 non mi ricordo preciso, dove al mattino facciamo la scuola dei piccolini, bambini piccoli e al pomeriggio il 2005. Quindi in linea di massima domenica 5 gennaio ci sarà un primo torneo per i piccoli? Sì, facciamo fare un mini torneo, saremmo 4 squadre compresi noi con 2006, 2007 e 2008 e pomeriggio 2005 con abbinato all'estrazione che facciamo di solito noi.